Un sorriso le illumina il volto, ma sappiamo quanta grinta, grazia e precisione ha quando è sul ghiaccio. Carolina Costner, medaglia d'oro in Mondiali di Nizza 2012, ha ricevuto oggi dal sindaco Tosi le chiavi della città. Un grazie per quanto ha fatto per promuovere nel mondo Verona, a partire da Opera on Ice, la serata di successo in arena dell'ottobre scorso che ha unito opera lirica, patinaggio artistico e spettacolo e che tornerà a Verona il 22 settembre. Sì, è un grande onore per me, non me l'aspettavo perché di solito queste esperienze spettano persone un po' più avanzate in età, penso, per aver fatto cose importanti. È un grande orgoglio e io spero che col poco che posso fare posso contribuire. Una dedica sui pattini, lo scambio di battute con i giornalisti, un dialogo breve ma intenso per capire quanta passione, quanto allenamento, quanta tenacia ci voglia per arrivare ai livelli di questa campionessa che mantiene una grande semplicità. Il mio obiettivo è cercare di fare il meglio che posso fare e finora mi ha portato tante tante soddisfazioni e sì, è una grandissima soddisfazione avere la medaglia d'oro al collo dopo tanti anni di lavoro e sacrifici. Sì, però la cosa ancora più bella è proprio vedere che riesco a catturare la gente, sentire gli applausi o anche il silenzio mentre pattino. È un piacere che sento dentro che è ancora più speciale della medaglia che pesa il collo. Senti, i valori dello sport per i giovani, tu hai avuto tanto impegno, tanto coraggio, tanta tenacia? Beh, dopo che si vince è sempre facile dire, è più facile condividere le vittorie che le sconfitte però l'importante è che uno prosegua per la sua strada senza tanto ascoltare gli altri e abbia sempre l'umiltà e il rispetto verso gli altri e poi serve tanto lavoro, tanta pazienza, tenacia, disciplina ma innanzitutto deve proprio essere la passione che ti guida perché è quello che ti riporta sul ghiaccio ogni giorno.